Noi riguardiamo queste frasi di Beppe Grillo, le backlist, i giornalisti chiamati per nome e cognome indicati come collusi, come venduti, come servi del regime, ci dobbiamo per forza porre due domande che vengono spontanee. La prima è, e se un giorno Beppe Grillo questo potere ce l'avesse, che cosa farebbe? E la seconda domanda è, se c'è qualche cretino, e la piazza è piena di cretini, che prendesse sul serio quelle parole, quegli insulti, quelle offese fatte con nome e cognome, quindi indicando precisamente dei bersagli, se qualche cretino si facesse venire la mano pesante dopo aver sentito queste parole, cosa dovremmo pensare? Ecco, stiamo attenti, il momento è difficile, le parole vanno misurate, soprattutto da parte del leader politico di un grande movimento, movimento, il primo o il secondo movimento partito, chiamatelo come volete, politico d'Italia. Dunque, da parte nostra, da parte mia, io mi impegno con Beppe Grillo a avere ancora più rigore professionale, a impegnarmi insieme alla mia squadra il più possibile per raccontare semplicemente i fatti. Poi noi sbagliamo, come tutti, facciamo sciocchezze, sbagli, come capita naturalmente a ognuno di noi e a ognuno di voi, ma questo impegno ce lo prendiamo. Io vorrei chiedere a Beppe Grillo di evitare di usare blacklist, di evitare di fare i nomi e cognomi con questi insulti, ma casomai attaccare noi giornalisti i suoi fatti concreti. Abbiamo sbagliato qualcosa? Abbiamo detto qualche cosa di sbagliato? Chieda una rettifica, se noi avremo sbagliato daremo una rettifica su ciò che abbiamo dato alla notizia sbagliata che abbiamo dato, se così fosse. Abbiamo diffamato il Movimento 5 Stelle o lui in persona o qualcuno dei suoi ci denunci per diffamazione secondo il codice penale e un tribunale deciderà. Ma se questo non è avvenuto, Beppe Grillo faccia il suo mestiere di politico e lascia fare a noi il nostro mestiere di giornalisti, lascia a noi l'autonomia di decidere che domande fare, chi invitare, come fare i nostri programmi. Sono tutte cose che spettano ai giornalisti, agli autori televisivi e che non possono essere in nessun modo contrattate con un politico. Alla fine un'ultima cosa vorrei dire. Piazza Pulita da quasi due anni è in onda, con ottimi ascolti e buoni ricavi pubblicitari. È la sola, esclusiva ragione per cui è ancora in onda. È in onda perché fa buoni risultati. Non perché ci sono ipergarantiti, assunti a tempo indeterminato. La mia è una squadra, parlo dei miei ragazzi, dei miei inviati precari che sono abituati a conquistarsi il posto e la conferma del loro contratto anno per anno sulla base dei loro risultati e di quello che hanno portato a casa con il loro lavoro. Per cui, Beppe Grillo, eviti di dire sciocchezze e imprecisioni, si informi, altrimenti finirà come tutti quei politici comizianti che parlano a vanvera. Grazie.